Nuovamente qui a Piazza di Spagna in un locale meraviglioso con una stella. Buonasera a tutti, sono Kinga Milanovska, ho 16 anni e sono una studentessa del liceo scientifico. Bene, sono molto contenta di vederti in questo bellissimo posto. Noi c'eravamo già vista un po' di tempo fa, oggi con sorpresa ti ritrovo anche su questo set fotografico bellissimo. E che dire, come mai hai deciso di partecipare a questo festival della moda e dell'arte? Allora, è sempre uno degli eventi dove mi ha chiamato per venire qui Tatiana e grazie a lei che sono qui è sempre un'emozione partecipare e fare nuove esperienze. Tatiana è una carissima amica, davvero brava, brava professionista qui per Marcia Sedoc a un volto per fotomodella.